franco pulicati 360 azione ormai lo fa sempre ormai per lui è un abitudine mo deve fare 720 740 quello non lo fai più attenzionato vai ti seguo è i can i 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